Galla Placidia, una donna forte e determinata in un'epoca di grandi cambiamenti. Galla Placidia fu una delle figure femminili più importanti della storia dell'impero romano. Figlia dell'imperatore Teodosio I e della sua seconda moglie Galla, nacque a Costantinopoli nel 388-392 d.C. e trascorse la sua infanzia tra le due capitali dell'impero, Costantinopoli e Roma. La sua vita fu segnata da grandi tragedie, tra cui la morte del padre, quando lei aveva solo 10 anni, e la cattura da parte dei Visigoti, che la tennero prigioniera per 4 anni. Durante la prigionia, Galla Placidia conobbe e sposò Ataulfo, il re dei Visigoti. Il loro matrimonio fu un'unione politica, ma si rivelò anche un'unione d'amore. Nel 416-10, Galla Placidia e Ataulfo riuscirono a fuggire dai Visigoti e a raggiungere Roma. Lì, Galla Placidia fu ricongiunta con il fratello Onorio, che era diventato imperatore d'Occidente. Nel 417-10, Galla Placidia sposò Costanzo III, un generale romano, che divenne coimperatore d'Occidente. Dopo la morte di Costanzo III nel 421-10, Galla Placidia divenne reggente per il figlio minorenne Valentiniano III. Ella governò l'impero d'Occidente per oltre vent'anni, durante un periodo di grandi cambiamenti e sconvolgimenti politici. Galla Placidia fu una governante abile e determinata. Ella si impegnò a proteggere l'impero d'Occidente dagli attacchi dei barbari e a promuovere la pace e la prosperità. Fu anche una mecenate delle arti e della cultura, e commissionò la costruzione di importanti monumenti, tra cui il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. Galla Placidia morì a Roma nel 450-10, all'età di circa 58 anni. Fu sepolta nel mausoleo onoriano, accanto al figlio Valentiniano III. Le principali imprese di Galla Placidia. Governò l'impero d'Occidente per oltre vent'anni, durante un periodo di grandi cambiamenti e sconvolgimenti politici. Si impegnò a proteggere l'impero d'Occidente dagli attacchi dei barbari e a promuovere la pace e la prosperità. Fu una mecenate delle arti e della cultura, e commissionò la costruzione di importanti monumenti, tra cui il mausoleo di Galla Placidia a Ravenna. Il suo impatto sulla storia. Galla Placidia è stata una figura importante nella storia dell'impero romano. Essa fu una governante abile e determinata, che si impegnò a proteggere l'impero d'Occidente dai barbari e a promuovere la pace e la prosperità. Fu anche una mecenate delle arti e della cultura, e il suo patrocinio contribuì a diffondere lo stile bizantino in Occidente. L'eredità di Galla Placidia è ancora oggi presente in Italia. Il mausoleo di Galla Placidia, a Ravenna, è uno dei monumenti più importanti dell'arte paleocristiana e bizantina. Esso è un simbolo della sua eredità e della sua influenza sulla storia dell'Italia.